Montevarchi è attonita dopo la notizia del parroco della chiesa della collegiata coinvolto in questa inchiesta dei carabinieri sulle opere d'arte rubate e poi appunto rivendute al parroco don Claudio Brandi che è indagato per ricettazione. Ecco che cosa ci hanno risposto i cittadini di Montevarchi. Da quando sono arrivata qui sono 23 anni due volte sono andata qui a messa non mi piace come parroco non sono più andata a messa solo questo voglio dirle. Non mi risultava pulito in tante cose comunque è una storia un po' raccapricciante. Ma io sono cristiano però devo dire che ultimamente mi sono allontanato dalla chiesa. Da uno che dovrebbe insegnare a fare di bene e aspettarsi quella cosa francamente ci rimaniamo stupiti. Non uso altri diciamo aggettivi perché se no c'è caso d'essere quell'altro e saranno le autorità civili e religiose a fare diciamo le giuste cose insomma ci penserà la magistratura e la curia. È una brutta storia. Vediamo poi come prosegue l'indagine però al momento non mi sento di giudicare. Siccome è un amante d'arte lui conosceva i capolavori e conosceva anche quel tizio che gliel'ha venduti perché è un po' recidivo quindi non ci sono scuse per lui.